Musica 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 Ma non ho Superimento Al chronic Era dal pezzo Quello Color E il Sì, è un po' femminile. Dove sta là? Perchè? Sì. Sì, vediamo dell'esperimentazione. No, Sussi, non mi lascia! No, no! Sussi! 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 Guarda! Sussi! 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 Bene! Poi? Il profumo è... Il profumo? Sì, è un'ora... Il simbolismo è il sonorismo. E fammi un esempio di suono... ma se non è proprio poco giusto ma se non è proprio poco giusto questi qua ci facciamo la pozzetta poi ci sono la pozzetta poi ci sono le cose poi andiamo in forma delle raccolte di voi cioè milizia o che no 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 adesso le due parti si porta sempre il questo è sempre infatti mi dice vediamo gli argomenti che stanno facendo mi dice che 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 bucoli mi mette già la differenza tra bucolos e georgia bucolos bucolos e il pastore è il pastore questo non ma questo non lo ma questo non lo ma questo non lo ma ci dobbiamo andare al Presidente Scopola questo non lo allora al lui lui dice non ma sì Ecco. Allora, faccio lì, faccio lì, la paura di chi ne. No, si ci fanno. No, allora, il primo adesso. O a entrare il primo mare, a livella le ciotte. Allora, faccio lì, faccio lì. Faccio il pancio, faccio lì. Mi piace. Mi piace che ci fanno. Mi piace va faccio. Puntà,ora, mi sembra faccio lì. winning. Mi piace, mi piace, mi piace. Fai faccio lì. Professore, professore allora, che modo le dà? Sì, parliamo un po' dell'arodinette quando viene... Quando viene un dieci anno, non fanno un'intensità. No, non fanno un'intensità. No, non fanno un'intensità. No, non fanno un dieci anni. Allora, di sabato, cioè l'arodinette è l'origiato, non fanno un ucce. Si chiama l'arodinette un'altra e fin lo spada. No, non fanno un ucce. C'è un ucce, c'è un ucce. C'è un ucce, c'è un ucce. E questo è un ucce, no? Questo è un ucce, sembrava un razzente. E già la facciamo un ucce. E poi c'è un ucce. Il mito era molto legato alla famiglia Per i vari lutti che aveva avuto Per i vari lutti? I vari lutti? I vari lutti suonano la mamma peco Il peto che prende l'ascensore 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 E' rimasto solo le due sorelle 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 Lui era molto legato alle sue sorelle Però anche la sua vita sessuale era Cioè poi c'era un po' paura Comunque c'è Acidificata E dai Un po' più Mi piace così No Lo so La cucina Non è Lo so Lo so Lo faccio Lo so E non è La cucina ho preso il nome della nazionale francese del decadente a a a a uf a manello che si vediamo che il professore si avvia interrogare a rosselle assusi ecco che vediamo susi e rossella che sotto le gambe tengono proprio tutti gli appunti e stanno proprio leggendo che bella interrogazione il professore va a finire di non vedere niente la la batteria la 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 presa di Roma, presa di Roma, poi vengono le lecce delle guarentini, la legge delle guarentini, mi stai perdendo? No, scuola, no, per cui sono? Ma che bella rupo la zio, non è? Che tutta rupo la zio, poi hai la giura che stai chciol, che questa non era a scuola? È una bovallo! E' stato tutto di pratica sul mio ilizio. E' finito. E' bombardiente. E' un'altra ruota. E' un piano. 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 E' il piano. E' tutto? Guarda il behaglia. Sì, scopi. Una sorpresa con gli occhi e oggi. Perché ho, in occhi? E' il piano. Sì, 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 sì. Grazie a tutti.